Questa mattina la seconda udienza del nuovo processo per la frana di Montalbino, storia fatta di rinvie di errori procedurali, tanto che il primo processo è stato annullato. La frana di Montalbino nel 2005 provocò a Nocere Inferiore tre morti. Secondo l'accusa la caduta di fango, massi e detriti a valle sarebbe stata provocata in una serata di pioggia dall'attività della vicina cava di estrazione. Da allora è sorto un movimento di opinione che vuole giustizia per le famiglie delle vittime ma anche un controllo sull'attività estrattiva ancora in corso. Questa mattina al Tribunale di Nocere si è celebrata la seconda udienza del nuovo processo e il gruppo di attivisti ha fatto sentire la propria voce, con loro anche Gerardo Gambardella, che quel giorno perse i genitori. Siamo qui per l'ennesima volta ancora per richiedere ancora con grande voce giustizia, giustizia e giustizia. Noi siamo qui per sensibilizzare sia per stare a fianco ai familiari delle vittime, per chiedere giustizia appunto, visto della strada assurda che sta prendendo questo processo, che ha già condannato i cavatori ma poi il processo è stato annullato e adesso siamo quindi in questo processo BIS che sta andando per le lunghe e speriamo che non ci sia la prescrizione ma venga fatta giustizia. E poi facciamo questa iniziativa e questo presidio anche per sensibilizzare un po' la gente, i cittadini di Nocera sul problema della cava di Montalbino perché purtroppo l'attività estrattiva sta continuando con autorizzazioni regionali e da quello che sappiamo noi molto leggere e quindi chiediamo che vengano fatti controlli più seri e soprattutto che venga chiusa questa cava perché ormai lo vediamo tutti i giorni davanti ai nostri occhi è un buco nella montagna che si apre sempre di più e abbiamo paura che un'altra tragedia succeda e ci sia un altro scempio ambientale. Oggi fiduciosamente aspettiamo che si riapra finalmente il processo, proprio entri nel vivo il processo e niente, aspettiamo sempre giustizia che al momento non è ancora data.